Per presentare uno spazio, registrati cliccando su Login. Seleziona Presenta uno spazio in Homepage. Clicca su Presenta e gestisci uno spazio. Dai invio su Crea nuova sede. Compilare il form. Prestando attenzione a inserire massimo due voci per il campo Tipologia di spazio e a indicare almeno un valore minimo per l'affitto. Fai clic su Salva immobile. Se si tratta di immobili con più spazi multipli fruibili separatamente, inserire una scheda per ogni sala dell'immobile. Alla voce Immobili correlati compariranno tutti i record degli spazi inseriti dallo stesso proponente. Selezionare quelli che si trovano entro la stessa struttura. All'interno di ogni scheda riferita a uno spazio, occorre sempre caricare la piantina in formato PDF e almeno una foto interna e una esterna. Le immagini non possono avere dimensioni superiori ai 4 MB. Non c'è limite al numero di immagini che si possono caricare. Al termine della procedura, gli spazi inseriti saranno consultabili nell'apposita vetrina dedicata agli spazi. Per tutti i dubbi, consultare la sezione FAQ del sito.